Posso dire che la scuola piemontese è tutta, composta da amministrazione, dirigenti scolastici, personale ATA, ma gli stessi genitori tutti hanno portato la scuola piemontese a far sì che si arrivasse a questo momento così importante per tanti ragazzi, sono più di 17.000 all'esame di Stato. È un esame di Stato, come si è detto, ormai più volte particolare, però è un esame importante, per loro un momento importante della vita che segna un passaggio fondamentale e che è già una prima conquista nel loro percorso anche di vita e di formazione. Quindi io continuo a ringraziare chiunque abbia contribuito alla realizzazione di tutto questo. Siamo stati molto uniti, scuole, amministrazioni, personale della scuola, proprio per realizzare questo. L'obiettivo è garantire una scuola, un esame in presenza e penso che come scuola piemontese ce l'abbiamo fatta. Ora tocca ai ragazzi affrontare questo momento importante, lo ricorderanno, lo ricorderanno anche per la particolarità ed sono sicura che lo affronteranno tutti al meglio.